Buonasera, come ha detto Alessandro, io sono Andrea Maurizio Gilardoni, genitore, formatore e imprenditore della nuova era. Come avete notato la prima definizione è genitore, perché in questa fase della mia vita ho due figlie, una di 11 e una di 12 anni, Kate e Karin, e il mio compito, credo che sia quello, come quello di tutti i genitori, credo che sia quello di portarle a poter vivere una vita che desiderano, una vita diciamo straordinaria. Siete d'accordo? Sì! No, no, di solito ai miei corsi funziona così, che al tre si dice sbam, proviamo, uno, due, tre? Sbam! Ci piace, ci piace. Quindi, quando con mia moglie, Lucia, abbiamo deciso di avere dei bambini, abbiamo anche deciso che avremmo dovuto spianargli quanto più possibile la strada, il che non vuol dire fargli trovare la pappa pronta, ma quantomeno dargli l'esempio di quello che potevano o avrebbero potuto costruirsi nella loro vita. E una delle cose più importanti, una delle cose che facciamo di più nella vita tutti noi è quella di lavorare, quella di lavorare tanti anni della nostra vita. Quindi credo che pensare a come instradarle al mondo del lavoro, anche prima che loro arrivassero a quel punto, fosse una cosa importante. E quindi ci siamo fatti questa domanda, che lavoro dovrebbero scegliere le mie figlie? Perché comunque, ovviamente, la scelta rimarrà sempre e comunque a loro. Ma come possiamo influenzare le nostre bambine in modo tale che loro possano vivere una vita libera? Che credo sia la cosa a cui tutti dovremmo tendere. E quindi ci siamo un po' guardati in giro e questi numeri erano quelli che io avevo vissuto fino dai 14 più o meno ai 25-30 anni. Cioè lavorare 8-10, a volte anche 12 ore al giorno, 6 giorni su 7, a volte in alcuni periodi anche 7 giorni su 7, 350 giorni all'anno e per 15 giorni di vacanza? Ci siamo chiesti, queste sono le scuole, la vita, tutti ci dicono, lavora tanto, lavora di più e vedrai e che otterrai di più. Giusto? È quello che le persone solitamente dicono. E quindi abbiamo detto, come possiamo fargli trovare la loro strada, ma scollegando questo fattore, cioè scollegando da quello che secondo me le porterebbe a vivere una vita di rinuncia, una vita dove molto probabilmente non farebbero esattamente quello che vorrebbero. E allora ci siamo un po' ingegnati. Una delle cose, come avete sentito, la seconda cosa con la quale mi piace definirmi, che è la mia passione, quella della formazione, essere un formatore, ho incominciato a studiare. Non tanto per me, ma quanto per riuscire a dare un significato e un segno, una strada, un percorso alle mie figlie. E quindi nel mio studio, nella mia ricerca, ho incontrato anche questa metafora che vorrei raccontarvi. Negli Stati Uniti, più che una metafora è una storia abbastanza vera, negli Stati Uniti hanno fatto un esperimento. Un esperimento e hanno preso delle pulci che in natura, le pulci, non so se lo sapevate, ma saltano fino a due metri. Che cosa hanno fatto? Hanno preso queste pulci e le hanno messe, un gruppo di queste pulci, in un vaso di vetro trasparente, alto un metro. Le pulci all'inizio saltavano e picchiavano la testa, diciamo, contro il soffitto di questo vaso di vetro e le hanno lasciate per qualche giorno all'interno di questo ambiente. A un certo punto hanno tolto questo vaso di vetro e si sono resi conto che tutte queste pulci non saltavano più sopra i 99 centimetri. Perché non saltavano più? Perché quando sentivano dolore si erano fermate e avevano imparato a saltare solo fino a 99 centimetri. La cosa straordinaria però, ed è per questo che questa storia mi ha colpito e ve la voglio raccontare oggi, è che queste pulci, una volta che hanno avuto dei figli, hanno comunicato, hanno trasmesso ai loro figli che non si poteva saltare fino a due metri e anche tutti i figli e i figli dei figli di queste pulci hanno scoperto che non saltavano più sopra i due metri, sopra il metro. E questa storia per me è molto significativa perché questo voleva dire che avrei dovuto dare l'esempio e avrei dovuto togliermi tutte quelle convinzioni o mettere comunque in discussione tutte quelle cose che le persone là fuori credono essere veri. E così con mia moglie abbiamo deciso di intraprendere la nostra carriera nel mondo dell'immobiliare, nel mondo della formazione, nel mondo della vita libera. E abbiamo capito che scambiare il proprio tempo per il denaro non è mai la cosa giusta. Cioè il prezzo di ogni cosa, se tu lavori per il denaro, diventa troppo costosa perché non la pagheresti più con i tuoi soldi, o meglio non la paghi più con i tuoi soldi, ma la stai pagando con il tempo che hai impiegato per guadagnare quel denaro. E quindi alle mie figlie volevo trasmettere questo concetto, cioè sicuramente ci sarà un periodo dove dovrai andare a lavorare scambiando il tuo tempo per il denaro, questo è normale. Sicuramente dovrai studiare e impiegare il tuo tempo per imparare e apprendere delle competenze e diventare una persona più capace o una persona migliore. Ma di sicuro a lungo termine scambiare il proprio tempo per il denaro non è la cosa giusta. Però qual è la cosa giusta da fare? Perché se non vado a lavorare, se non scambio il mio tempo per il denaro, qual era la cosa giusta da fare? Qual era la cosa giusta da insegnare a due creature che avevamo messo al mondo? Beh, per questo che credo che il denaro e il lavoro siano controversi, perché le persone che vanno a lavorare in realtà vanno a lavorare per il denaro. Siete tutti d'accordo? Le persone vanno a lavorare per il denaro, o meglio, vanno a lavorare perché hanno bisogno del denaro e molti di loro, o meglio pochi di loro, vanno a lavorare per passione. Nella mia ricerca da formatore mi sono reso conto che c'erano questi due numeri importanti che sono accaduti nel 2018 proprio qua in Italia. Sono due numeri molto significativi che confermano il fatto che i risultati che otteniamo vengono dati non tanto dal lavoro che facciamo, ma da quello che crediamo, dalle convinzioni che abbiamo. Infatti se andate a ricercare sul sole 24 ore, Credit Suisse ha fatto una ricerca in tutta Europa e non solo. E ha scoperto che nel 2018, questo numero mi ha impressionato quando me l'hanno detto, o meglio quando sono andato a leggere questa ricerca di Credit Suisse, nel 2018 in Italia, in Italia, 200.000 persone sono diventate milionarie. Non 2.000, non 20.000, 200.000 persone nel 2018 sono diventate milionarie in Italia. E allo stesso tempo, nello stesso paese, con la stessa politica, con le stesse tasse, con lo stesso clima, con le stesse condizioni, 245.000 persone, sempre in Italia, hanno perso la casa. Questo dato mi ha confermato che non è l'ambiente in cui vivi, che non è il posto in cui sei nato, che non è quello che ti circonda a fare la differenza, ma è come reagisci al mondo che ti circonda e come ti comporti, è quello che credi. E ho capito che per guadagnare non bisogna avere un lavoro, questo è quello che vuole essere il mio messaggio per i miei bambini e anche per voi, ma bisogna avere una strategia, bisogna avere delle regole, bisogna programmarsi. Purtroppo o per fortuna in questa economia il denaro serve per curarsi, per mangiare, per vivere, per viaggiare, per creare una famiglia, per sostenere, per avere i propri hobby, per sostenere le persone a cui teniamo, le persone care vicino a noi. Però lavorare non significa scambiare il proprio tempo per il denaro e adesso vi spiego perché. Ci sono alcune regole. La prima regola è quella che, secondo me, il denaro, non siamo noi a dover lavorare per il denaro, ma è il denaro che deve lavorare per noi. È una cosa a cui dobbiamo tendere tutti. Non andare a lavorare per il denaro, ma mandare il denaro a lavorare per noi, che non è la prima fase, ovviamente come le mie figlie, non è la prima fase della loro vita, è qualcosa a cui dovranno tendere. E la seconda regola è che non importa da dove parti. Abbiamo visto che nella stessa economia, nel 2018, non 20 o 30 o 50 anni fa, ci sono stati due risultati opposti molto importanti e quel risultato che vi ho raccontato fa parte di migliaia di famiglie in Italia, centinaia di migliaia. Quindi non importa dove parti, questo è quello che volevo spiegare, quello che vorrò spiegare alle mie figlie. Ma insegniamo a loro a costruirsi la possibilità di scegliere del proprio destino, del proprio tempo. Come lo facciamo? Lo facciamo con quattro regole. La prima regola è che non devi avere pregiudizi. Tutte le mattine dico alle mie bambine prima di andare a scuola andate in bagno e prendete il filo intermentale e togliete tutte le cose negative che pensate o che potrebbero influenzarvi. Un filo intermentale immaginario, quello che serve per avere, per costruirsi una mentalità vincente. La seconda cosa che insegno alle mie figlie è vai a studiare, vai a scuola, quando sceglierai il tuo percorso di studi, non sceglierlo per opportunità, sceglilo per passione, perché non deve per forza essere quello il lavoro che ti farà vivere. Impara le regole del denaro e impara a costruirti nel tempo delle entrate scollegate dal tuo tempo. Io e mia moglie Lucia facciamo questa cosa tutti i giorni con gli immobili e stiamo cercando di trasferire questa passione, non tanto delle case, ma questa capacità di generare denaro aiutando le persone. È una cosa che secondo me è molto importante e riusciamo a farla con le case. E la quarta cosa che dico alle mie figlie sempre, e alle quali auguro questa cosa, è che alla fine tutti dobbiamo essere capaci di diventare degli investitori, cioè di mandare i nostri soldi a lavorare il nostro posto. È un percorso a step. La prima cosa è costruire la nostra mentalità vincente. La seconda cosa è trovare un lavoro che ci appassioni, così non lavoreranno neanche un giorno della loro vita. La terza cosa è quella di imparare le regole del denaro in modo tale che anche loro possano costruirsi la loro indipendenza economica e quindi non lavorare più neanche un secondo per il denaro, ma per creare valore al mercato. E alla fine l'unica cosa realmente sostenibile è quella di mandare il proprio denaro a lavorare al nostro posto. E sapete perché? Perché siamo nel 2019 e si dice che oggi la media della nostra vita è circa intorno agli 87 anni. Se prendiamo quattro persone, due uomini e due donne, addirittura si sale a 97 anni, cioè uno di quelle persone vive fino a 97 anni. Io credo che le mie figlie arriveranno a superare probabilmente i 100 anni di età, perché la medicina sono sicuro che farà passi da gigante nei prossimi anni. E se non insegniamo a loro adesso queste regole, cioè le regole di non dover lavorare per il denaro ma di mandare il denaro a lavorare al nostro posto, rischiano di vivere una vita che non sia degna di essere vissuta. Quindi sono piccole strategie che volevo passarvi in questa giornata meravigliosa che penso possono fare molto la differenza, non solo nella vita delle mie figlie, ma anche nella vostra vita. Grazie.